La base è al di là della collina Sì Presto non ci possiamo fermare Eccoli, catturateli Fate presto Fate presto Avanti, prendeteli I tuoni mi terrorizzano Purtroppo il peggio verrà quando i tuoni finiranno, Callan Sono certo che Franklin non la smetterà finché non è sicuro che Steve e Jamie siano morti Bisogna attraversare la diga per raggiungere la base I fulmini ci vengono addosso, siamo noi ad attirarli Prima l'attraverseremo, meglio sarà Andiamo Trocca i fulmini prima che i robot possano raggiungere la diga Li distruggerebbero Non posso Non siamo più in grado di controllarli Se i fulmini colpiranno loro, colpiranno anche i robot No Corri Jamie, più veloce No No Dottore, i fulmini possono colpire la diga La diga sta cedendo La diga sta cedendo No 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 Non